Sono passati quasi tre anni da quando la copertura del canale Benassai, che corre tombato lungo il viale San Concordio, è crollato in due punti. Da allora una vera e propria odissea per la viabilità del paese, che si è conclusa ieri 28 gennaio con la rimozione delle transenne che delimitavano il cantiere all'incrocio con via Guidiccioni. Alla cerimonia di conclusione dei lavori per il consolidamento c'erano l'assessore Nicola Buchegnani, il presidente della commissione lavori pubblici Marco Santi Guerrieri, la dirigente Antonella Giannini, i tecnici del comune e delle ditte appaltatrici, oltre ai rappresentanti della soprintendenza. È stato un lavoro più complesso rispetto a quello che si pensava all'inizio, un lavoro che è stato condiviso naturalmente con la soprintendenza, è un lavoro che ha visto il recupero della volta e la creazione di quello che sarà il nuovo ponte, voglio dire distaccato dalla volta perché la volta non poteva più reggere il peso delle auto e dei mezzi che passavano sopra l'incrocio, quindi è stato creato praticamente un nuovo ponte che sorreggerà strutturalmente il peso dell'incrocio e dell'intersezione e la volta è salvaguardata così come richiedeva la soprintendenza del progetto inizio. I lavori sono stati lunghi e complicati perché è stato previsto il recupero della volta storica crollata, quindi la sua messa in salvaguardia. A ritardare la ripresa inoltre lo spostamento e il riposizionamento di tutti i sottoservizi inseriti nei decenni intorno al condotto sotterraneo. Il lavoro è costato 450.000 euro interamente a carico del Comune di Lucca.